Siamo qui con Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco Bank, oggi anche in veste di docente in un evento, un corso sulla finanza comportamentale organizzato dalla sua banca. Di cosa parlate oggi, dottor Foti? Oggi è uno dei tanti eventi che organizziamo sul territorio dove l'obiettivo principale è quello di aumentare la cultura finanziaria dei nostri clienti. Noi pensiamo che una delle tematiche più importanti che ha di fronte a sé il Paese sia proprio quello di aumentare il livello di cultura finanziaria. Il nostro è un Paese che è caratterizzato da un'anomalia, tanto risparmio e poca cultura finanziaria. Oggi di cosa parleremo? Perché generalmente i clienti sono sempre molto preoccupati di quelle che sono le situazioni contingenti del mercato. Direi che ogni giorno c'è un motivo di preoccupazione e quindi la tendenza è sempre di avere una visione negativa del mercato, di aspettare sempre quello che sarà il momento giusto per investire. Oggi in realtà spiegheremo come, in realtà se osserviamo bene tutto quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, quindici anni, ma anche andando ancora più indietro, ci accorgeremo che il mondo continua a crescere, a progredire, pur in un contesto di problemi e situazioni anche complesse che vengono di volta in volta risolte. E che quindi alla fine il vero aspetto su cui bisogna concentrarsi è innanzitutto un concetto legato alla diversificazione, cioè non prendersi dei rischi che siano legati magari a un singolo emittente, a un singolo Paese, a una singola industria. L'altro aspetto molto importante è avere ben chiaro quali che sono i propri obiettivi e quindi di conseguenza il proprio orizzonte temporale. E poi ricordarsi che come esattamente ogni volta che c'è un saldo ci precipitiamo a comprare facendo la coda davanti al negozio, quando i mercati finanziari sono in una fase negativa, quelli sono i momenti dei saldi ed è il momento di approfittarne. Quindi oggi ci intratterremo su aspetti che possono sembrare molto banali e semplici, ma che alla fine sono poi quelle che devono essere le guide nei comportamenti di tutti i giorni e che se correttamente seguiti possono permettere di raggiungere abbastanza confortevolmente i propri obiettivi. Ecco, in uno scenario di tassi a zero e di mercati azionari che hanno un andamento tutto ancora da interpretare, difficile da interpretare a priori, visto che ci sono alcune scadenze elettorali che possono condizionare i mercati, per il consulente, la figura del consulente, qual è un po' il messaggio che deve comunicare alla clientela in questo momento, secondo la vostra visione? Innanzitutto il contesto di uno scenario caratterizzato da tassi che sono a zero, se non addirittura negativi, sta aiutando a far capire ai clienti che per esempio modalità di investimento che fino a un po' di tempo fa erano considerate assolutamente adatte, come il parcheggio della liquidità sul conto corrente, non lo sono assolutamente. Ricordiamoci che gli italiani presentano a tutt'oggi un problema nella loro asset allocation perché più di un trillion di euro della ricchezza finanziaria delle famiglie è parcheggiata sui conti correnti, quindi è evidente che questo non è il modo migliore per investire. Per quel che riguarda il discorso dei mercati azionari, quello che il consulente in questo momento deve fare deve appunto aiutare il cliente a capire che prima di tutto sistematicamente il mercato propone delle cosiddette scadenze, dei momenti difficili. Noi abbiamo appena passato la Brexit che adesso è stata quasi completamente dimenticata e siamo pronti ad affrontare le scadenze elettorali e il referendum. Se ci guardiamo indietro abbiamo avuto la Brexit, poi abbiamo avuto la presunta crisi della Cina all'inizio dell'anno, però alla fine sul medio e lungo periodo i mercati vanno dove devono andare, cioè l'economia del mondo non può altro che continuare a crescere e quindi il consulente in questi momenti deve aiutare il cliente a togliere un pochino di quello che è il disturbo di fondo dato da questi eventi e mantenere il cliente concentrato su quelli che sono gli obiettivi di lungo periodo e i corretti approcci che bisogna avere nella gestione dei propri investimenti. Un'ultima domanda a Dottor Fotti riguardo al settore della consulenza finanziaria e del risparmio gestito. Questi anni sono stati senz'altro anni, possiamo dire, felici per il vostro settore, la raccolta è stata sostanziosa. Cosa possiamo prevedere in uno scenario futuro, visto che il settore è anche insediato da alcuni fattori, per esempio la concorrenza... Grazie.